quello che vive meglio vai c'era anche l'opzione per fare per tornare giochiamo in due eh ma io vorrei anche sentire l'audio del gioco eh eh no no com'è no difficoltà vabbè metti medium dai è da un po' che non è meglio ma vai o vuoi metterà no ma lo vai facciamo un no ma poi magari per il long play faremo anche qual è long play ma per il long play faremo anche hard si hai fatto partire eh no è un po' di audio alza il volume alza il volume della tv magari non lo so in maniera tale eh se abbassi troppo non sento l'audio non so da che parte mi trovo allora mi dovessi mettere la barra spaziatrice sul joystick come ben sai si usa la barra spaziatrice per lanciare le bombe la serena si sta diventando molto cacca proprio mi devi emulare la barra spaziatrice altrimenti io non posso lanciare le bombe e moriamo subito non credo che si possa fare perfetto poi vuoi qualcos'altro e le bombe me le lanci tu visto che c'hai tu la tastiera no perfetto ok devo configurare il store a cabo va bene eh ma la barra spaziatrice si usa giù giù no non va giù non va giù queste sono cose che si dovranno fare prima della della barra ma tu deve essere scendono queste cose nuove ma lo sai benissimo che servono anche i tasti della tastiera eh no vabbè mi lanci tu le bombe no se vuoi te le lanciate in testa se vuoi vai fai partire il gioco se io dico bombami mi lanci la bomba e vabbè nel gioco questi giochi in due eccolo qua comando hai avuto un'ottima idea dai lanciami una bomba vai va poi davide sei quello che sei non fa niente eh sì il male è bloccato attenzione soprattutto poi non non l'hai salvata no non sa che farà la buttatrice bomba bravo anche qua si lanciano le bombe vero? sì è deciso vai ancora vai va bene ma fa niente eh rimanere incastrati vai vai mazza eh c'è c'è stato un è un movimento davanti allo schermo ecco c'è vai lancia la bomba eh e il problema è che mentre tu esegui io già mi devo spostare vabbè mi sa che non è fattibile giocare in questo modo è ucciso anche la scimmia è una scimmia qui magari so bug normali? no no avessi la possibilità di usare le bombe sarebbe molto più semplice invece la farà di fare anche senza bombe e lanciano la bomba va non è lanciato no non è lanciato niente vai è lanciato la bomba ancora? bomba vabbè va niente va niente devi uscire per riconfigurare la tua e dopo usciamo e riconfiguriamo ma il comando è tratto da comando è la concirex eh si me l'ho dimenticato di questo ah questa è la mazza sbirri se che ci fa questo qua questi magari si ammazzano le bombe ci proviamo? vabbè e bisogna sincronizzarci se io mi metto firmo vuol dire che mi diraggia la bomba no no lo stai facendo e ti difiima vabbè non fai niente me la faccio senza ammazzare va fai una guerra in maniera senza uscita di nessuno si beh 26 bombe sono andato a prendere capi mi aveva scansato e quindi sono tornato indietro per prendere perfetto hai fatto una partita straordinaria vabbè adesso puoi giocare tu così hai sia il joystick che la tastiera per lasciarti le bombe da solo farà butto però io farò di meglio eh ora te lo configuri ti configuri la bomba eh bastardo se ci riesco se no cambiamo eh si ci vuole sappiamo che la maggior parte dei giochi sfruttano anche il secondo tasto con una barra spazzatrice ci devi proprio giocare eh si ci devi proprio giocare sono lo stretto si vediamo un comando versione alternativa eh possiamo configurare poi dopo questa partita possiamo configurare l'accade che posso usare anche la barra spazzatrice non è non è un'epoca non è un'epoca si un'epoca un'epoca di seconda libera bravo 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 lanciare ormai decisamente è bene che lanciare a cazzo per esempio anche il gioco che vorrei vedere dopo usava la spazzatrice esigo una configurazione corretta di questo joystick così che lo fa come se lo fa devi uscire per farlo si esce troppi sprite ma come il comodo non lo faceva è un compito da 10.000 volte più potente lo fa questo problema si chiamano azioni emulatore di cacca ma possiamo capire che stiamo live puoi salutare il spettatore ma buonasera no ma non è cosa adesso non è piano lo faccio non si sente no non devi parlare stavo registrando in live non dovresti neanche dire questo ok volume è molto basso a robbia